C'era un via vai di gente nel palazzo soprattutto di notte, tanto da spingere i residenti a fare una segnalazione alla polizia e così a seguito di un'articolata attività di indagine nella notte tra l'1 e il 2 giugno gli agenti della polizia di stato della squadra mobile di Salerno nel corso di servizi di osservazione nella zona porto di Salerno hanno avuto modo di riscontrare che i sospetti dei cittadini che nello stabile ci fosse una casa hot di appuntamenti erano fondati. Una serie di appostamenti hanno permesso infatti agli agenti di accertare che all'interno della casa in questione, occupata da una cittadina sudamericana, si consumassero prestazioni sessuali a pagamento. Pertanto, fermati inizialmente tutti gli avventori per riscontrare le ipotesi investigative ed acclarati fatti, gli uomini della sezione falche hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento o verrà stata segnalata la presenza di numerose persone che si intrattenevano all'interno dello stabile soprattutto nelle ore notturne. All'interno sono state trovate due persone, una di nazionalità colombiana di 23 anni che era in compagnia del suo cliente di nazionalità italiana nell'attesa di consumare una prestazione sessuale. Dalla successiva perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 250 preservativi, flaconcini di gel massage oltre ad una somma di denaro provento dell'attività posta in essere dalla cittadina colombiana. Con la raccolta di elementi a sostegno dell'ipotesi investigativa, l'appartamento è stato posto sotto sequestro con la posizione di sigilli e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di ulteriori provvedimenti a carico dei responsabili.